bene fine settimana è passato e ci troviamo in un'altra nuova settimana il mio progetto nuovo dedicato alla produzione di video aziendali quindi fare video aziendali per la tua impresa video aziendali che possano essere funzionali con il sistema del metodo video facile ci troviamo alla tredicesima diretta che ho deciso di condividere con voi qui gratuitamente nella mia pagina e poi direttamente anche nel gruppo video facile dove potrai iscriverti anzi vai ad iscriverti nel gruppo video facile e quindi il metodo video facile per fare video ed essere i primi nel proprio mercato sì perché oggi tu puoi diventare il protagonista del tuo mercato puoi diventare il primo del tuo mercato se ti guardi intorno con la tua attività probabilmente i tuoi diretti competitor non stanno facendo video e fare video oggi ti può mettere in una posizione di riguardo verso i tuoi potenziali clienti verso i tuoi stessi clienti nei confronti nell'occhio nell'occhio dei tuoi partner collaboratori e fornitori e quindi ti può mettere al vertice del proprio del tuo mercato di riferimento quindi tutti ognuno può essere messo al vertice del proprio mercato di riferimento quindi devi iniziare a produrre video video per la tua attività per parlare le luoghi fuori per bucare questo telefonino questa piccola telecamerina dove potrai aprire la finestra su una vastità di gente che ogni giorno è sui social considera che in italia 31 oltre 31 milioni di persone sono connesse tutti i giorni ai social da facebook a instagram per non parlare dell'esplosione che c'è adesso riguardo a tiktok tiktok che sta facendo veramente cose pazzesche le persone stanno sempre incollate al telefonino lo farai anche tu renditi conto che probabilmente anche tu stai facendo questa cosa anche tu sei lì a cercare a guardare video per prendere informazioni per divertirti per passare il tempo per giocare per fare tutto quindi devi far parte di questa ciurma ci devi stare anche tu con la tua impresa e come meglio farlo con un metodo un metodo che possa funzionare si perché mi stanco di ripeterlo lì fuori ci sono tanti che magari stanno già facendo video giusto perché ne vedi tanti ma i loro video non sono efficaci e sai perché perché non parlano nel modo giusto al proprio pubblico non portano un messaggio funzionale è questo il difetto dei tanti video che vedi perché è facile sicuramente mettersi davanti alla telecamerina e iniziare a registrare video ma non è tanto facile far sì che il tuo pubblico comprenda bene il tuo messaggio che il tuo messaggio sia efficace e questo puoi farlo utilizzando un metodo un metodo che io ho applicato ho studiato e ci ho sbattuto la pancia per ormai più di tre anni che sto facendo questa cosa è un metodo che prima l'ho elaborato e l'ho sperimentato da solo poi mi sono avvalso anche di altre figure che mi hanno aiutato ad implementarlo e metterlo più al punto possibile specialmente per quanto riguarda la comunicazione del messaggio che devi portare lì fuori e quindi i video sono una forza impressionante andiamo a vedere oggi oggi cosa voglio condividere con te voglio condividere quelli che sono i punti di forza cardine dei video i punti di forza la differenza che possono fare i video che ti possono far fare video con la tua attività e io sono sicuro che tu adesso se starai qui a guardare questa diretta questo mio video in diretta o registrato indifferita come vuoi guardalo l'importante che te lo guardi te lo ascolti avrai compreso l'importanza dei video per il tuo business se non hai compreso ancora l'importanza dei video per il tuo business ti esorto a muoverti a cercare di capirla ad approfondirla vai iscriviti nel mio gruppo metodo facile metodo video facile iscriviti nel gruppo lì sto condividendo tante cose gratuite guardati la master class che è registrata che puoi approfondire subito è gratuita accedi tanto alle prime iniziali informazioni che sto condividendo con te vai vai inizia a a fare qualcosa per la tua attività inizia a fare video inizia a comunicare lì fuori in maniera decisa con il tuo pubblico ciao chi è entrato in questo momento e quindi avrai capito l'importanza dei video se non l'hai capito approfondisci e cerca di comprenderla avrai capito che i punti di forza dei video sono quelli che ti possono permettere di ampliare la tua voce i video ti moltiplicano la voce quello che tu dici in questo momento io sto parlando con te no e siamo qui uno uno due tre non so quanti siete pochi magari ma dopo questo video resterà lì e quindi questi dieci minuti che io passo insieme a te in questo momento si moltiplicano perché tantissime altre persone avranno la possibilità di guardarlo dopo e di prendere informazioni per cui la stessa cosa la puoi fare tu con la tua attività e il punto di forza del video uno dei punti di forza è proprio questo quello di moltiplicare la tua voce una cosa che fai in dieci minuti un messaggio che porti in dieci minuti al tuo potenziale pubblico ai tuoi potenziali clienti verrà moltiplicata e si ripeterà e tu avrai questa leva di forza impressionante possono di conseguenza amplificare potenziare il tuo business quindi possono portare un'ondata di freschezza di forza alla tua attività possono darti tanta visibilità tanta visibilità sì i video ti rendono visibile e sai perché perché ancora sono pochi quelli che hanno un'impresa e regolarmente un giorno tutti i giorni oppure un giorno sì un giorno no oppure comunque in maniera periodica producono e pubblicano video per cui tu che inizierai a farlo ti metterai una condizione di visibilità massima confronto ai tuoi competitor vai inizia possono darti inoltre tanta autorevolezza sì perché che succede che tu avrai la possibilità di comunicare con il tuo pubblico lì fuori avrai la possibilità di far capire la competenza che hai nel tuo mestiere i valori dei tuoi prodotti la la forza dei tuoi prodotti e i tuoi servizi avrai la possibilità di farla comprendere e le persone ti riconosceranno autorevole nel tuo settore nel tuo mercato di competenza ecco perché ti dico che puoi diventare il primo nel tuo mercato di riferimento non è utopia è proprio un dato di fatto è facile è facile ancora è facile perché ancora poche persone di pochi tuoi competitor stanno facendo questo i video poi possono darti tanto tempo possono darti tempo a te e ai tuoi cari sì perché questo questi 10 minuti che sto condividendo con te è un impegno per 10 minuti e per un altro 15 minuti di preparazione di questo piccolo discorso che sto facendo con te ma si perpetua nel tempo e io potrei anche passare del tempo una volta che ho prodotto tanta comunicazione con i miei cari mentre i miei video continuano a lavorare per me pensa quale forza che ci può essere e poi ti possono generare più fatturato e più guadagni perché se tu sei più autorevole nel tuo mercato di riferimento quindi sei riconosciuto come competente le persone si avvaleranno più facilmente di te si affideranno più facilmente a te e attenzione attenzione non staranno lì a tirare il prezzo a cercare il prezzo più basso no vorranno venire da te perché ti riconoscono competente ti capiterà anche a te di andare da professionisti o da negozi specializzati e non chiedere gli sconti non preoccuparti del prezzo più basso bensì sei attratto dalla qualità e dal servizio che ti offrono ti sarà capitato ne sono sicuro capita a tutti e questo devi fare in modo che possa capitare anche alla tua attività al tuo business poi ti possono dare i video come punta di forza più soddisfazione nel tuo business sì perché io oggi ancora vedo tantissime persone che fanno svolgono la loro attività e non hanno soddisfazione e la sera gli ruota il culo lo dico proprio come stanno le cose e invece non può essere così se svolge un'attività la tua attività deve essere piacevole la sera devi essere soddisfatto domani mattina ti devi svegliare che non hai che non vedi l'ora di andare a sforzare la tua attività perché ti provoca piacere e quindi con i video raggiungendo ambiziosi traguardi il fatto dell'autorevolezza di portare un valore sul mercato di essere riconosciuto di essere più autorevole più competente e un punto di riferimento del tuo mercato ti possono dare più soddisfazione a svolgere la tua attività sì te lo dico perché a me è successo a me sta accadendo può accadere anche a te poi ti possono dare inoltre tanta credibilità sì questo è uno dei punti di forza cardine credibilità quindi tu puoi acquisire credibilità per quale motivo ti danno credibilità perché ci metti la faccia perché ci metti il tuo faccione e ci stai quindi le persone si fidano di più si affidano a te si fidano perché se tu gli stai dicendo le cose mettendoci la faccia acquisisci di conseguenza tanta credibilità eh sei d'accordo con me io penso proprio di sì andiamo a vedere con i video che cosa possono permetterti di fare i video allora guarda magari lo guardi lo vedi al contrario e ce l'ho scritto qui no guarda lo vedi al contrario perché facebook in diretta ci dà le immagini al contrario se io registro dalla parte del dello schermo del mio telefonino però comunque potrei leggere lo stesso perché abbiamo la possibilità anche di leggere al contrario abbiamo anche questa capacità non è così complesso i video ti possono permettere di attrarre i tuoi clienti desiderati attrarre il pubblico sì perché metti metterai curiosità con i tuoi messaggi il tuo le tue comunicazioni farai in modo di creare curiosità interesse verso le persone che non hanno altri che gli stanno dicendo le stesse cose tue anche se hai dei competitor diretti non parlano la tua stessa lingua parlano in maniera diversa credimi e quindi potrai attrarre un pubblico e specialmente potrai attrarre i clienti che tu desideri eh potrai una volta attratte queste persone potrai educarle educarle nel senso che potrai portare loro dei messaggi aggiuntivi per portare il valore la tua competenza per fargli capire il valore dei tuoi servizi dei tuoi prodotti e quindi educarli a fidarsi e affidarsi alla tua attività a te come professionista qualsiasi attività tu svolgi attenzione dal parrucchiere al ristorante al benzinaio all'avvocato al commercialista al tutti tutti possono fare questo perché tutti hanno bisogno di parlare con un pubblico tutti hanno bisogno di attrarre clienti tutti hanno bisogno di vendere e i video ti permettono anche di vendere sì ti permettono anche di vendere un video fatto bene ti potrà permettere di vendere i tuoi prodotti i tuoi servizi credimi che è così e poi ti possono dare un altro valore immenso che è quello di fidelizzare i tuoi clienti puoi fidelizzare i tuoi clienti perché potrai continuare a parlare con loro portare loro le altre informazioni e generare così dopo che già sono diventati clienti quello che in america è chiamato l'effetto wow l'effetto wow e lo puoi fare lo puoi fare anzi ti dico una cosa lo devi fare lo devi fare per cui inizia a produrre i tuoi video per diventare il punto di riferimento del tuo mercato sì perché attenzione che la tua attività fa parte di tutte le altre si distingue non si distingue nel mercato se non fai qualcosa di diverso e i video ti possono permettere di fare qualcosa di diverso ti possono permettere di raggiungere quel mercato e soprattutto di raggiungere i tuoi clienti desiderati ciao vai nel mio gruppo video facile iscriviti vai a prendere ad usufruire di tutte le informazioni gratuite che sto condividendo lì dentro e poi guardati la mia masterclass gratuita certo dovrei dedicare un'oretta perché vado un po più nel profondo dell'argomento e ti spiego tante cose mi faccio conoscere un po meglio se già non mi conosci e poi non so magari potrai avvalerti delle mie competenze magari chissà potrai diventare anche mio cliente ciao ciao